Ciao a tutti e benvenuti, allora sarò brevissima, volevo giusto realizzare questo video un po' chiacchiericcio con voi perché? Perché allora innanzitutto negli ultimi giorni non ho avuto tempo per registrare o comunque informarmi riguardo ciò che stava accadendo in casa Inter, però devo dire che voi siete sempre i primi ad informarmi su tutto c'è un iscritto in particolare che su Instagram condivide sempre le ultime notizie con me quindi in un certo senso mi tiene sempre aggiornata e ho ricevuto alcuni link proprio sulla questione di Sabatini che ormai possiamo ben definire ex direttore sportivo dell'Inter perché ormai le cose sono state fatte poi nel momento in cui mi sono stati inviati questi link da questo mio iscritto altri sono venuti a chiedermi tra ieri e oggi ne sei qualcosa di Sabatini? Secondo te è giusto? Ho fatto bene? Una perdita? Allora innanzitutto io non vi ripeto non ho proprio avuto il tempo di informarmi però tra ieri e oggi qualcosina sono andata a leggere allora a quanto pare lui ha chiesto come voi già ben sapete perché ormai ne parlano le gazzette, i tg sportivi e non quindi voglio dire una notizia che ormai sanno tutti Sabatini ha chiesto la risoluzione del contratto a Suning il contratto se non erro di Sabatini scadeva a fine anno però lui ha chiesto che tutta questa operazione fosse anticipata in un certo senso quindi voleva proprio tagliare i ponti subito questo sarebbe avvenuto perché Sabatini in un certo senso si sentiva parecchio limitato per quanto riguarda il mercato non dimentichiamoci che Sabatini nella nostra inter rivestiva il ruolo di direttore sportivo e secondo me rispondendo a qualcuno di voi che mi ha fatto questa domanda è una grande perdita perché non dimentichiamoci che Sabatini comunque ne ha scoperti di giocatori ne ha scoperti di giocatori e per arrivare a fare una scelta così non aspettare neppure la fine dell'anno e quindi chiedere la risoluzione del contratto anticipatamente sicuramente qualcosa sotto c'è ovviamente retroscena di tutta questa vicenda non ci verranno detti a noi perché alla fine ci viene detto soltanto quello che ci è dato sapere le altre cose noi non le sappiamo probabilmente non le sapremo nemmeno perché non è che la società adesso si metta a spifferare tutte le loro cose a noi tifosi, ai giornali e tutto quanto comunque il motivo principale sarebbe questo il fatto che lui si sentiva parecchio limitato sul mercato e quindi adesso una domanda mi sorge spontanea questo grande progetto che aveva in mente Suning, questa società forse non aveva delle basi così concrete allora, quando l'Inter comunque è stata presa in un certo senso tra virgolette da Suning le promesse sono state tante faremo dell'Inter una grande squadra bla 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 che tra l'altro non vi sono neppure a ripetere perché sarebbe veramente una perdita di tempo compriremo anche comunque i giocatori i rinforzi adeguati e tutto quanto queste erano tutte parole loro non me le sto inventando io lo sapete benissimo anche voi adesso io non voglio sputare sulla società non voglio arrivare a questo in questo video volevo soltanto confrontarmi con voi ovviamente voi lo farete nei commenti però se Sabatini è arrivato a chiedere la risoluzione del contratto anticipatamente qualcosa c'è evidentemente il progetto che era stato messo lì da Suning non aveva delle basi poi così concrete oppure comunque nel momento in cui si andava a dialogare si andava a comunicare non avevano dei pensieri simili e quindi magari per questo anche Sabatini ha deciso di tagliare i ponti con l'Inter il fatto sta che ormai Sabatini lo possiamo definire ex direttore sportivo dell'Inter e la cosa un po' mi dispiace perché lo ripeto ancora una volta lui ne ha scoperti di giocatori e secondo me all'Inter avrebbe fatto veramente bene perché lui davvero ne ha scoperti di giocatori ne ha scoperti di giocatori quindi eravamo tutti contenti all'inizio dell'anno a Sabatini una nota positiva una nota positiva però a quanto pare anche questa nota positiva è andata ad affogarsi perché c'è qualcosa a questo punto mi viene da pensare che questo progetto questo enorme progetto di Suning alla fine le basi non ce le ha perché comunque a parte il fair play finanziario ma se tu dici di voler agire in un certo modo e poi fai tutto il contrario di ciò che dici di ciò che hai detto alla fine perdi anche di credibilità innanzitutto agli occhi di noi tifosi perché sono tanti quelli che si sono definiti delusi alla fine del mercato del calciomercato e tutto quanto ma poi comunque perdi di credibilità in generale forse anche all'interno della società stessa quindi sicuramente ci saranno delle cose che noi non sappiamo che non c'è dato sapere fatemi sapere anche voi quello che pensate se sapete qualcosina in più di me io ovviamente vi dico ciò che leggo ciò che sento come vuoi non mi spaccio per una giornalista che non sono non faccio finta di avere contatti che non ho che mi spifferano le varie notizie questo non lo farò mai devo dire che mi fa tanto piacere quando alcuni di voi mi chiedono spiegazioni però io con tutto il bene che vi voglio raga sono una di voi con la sola differenza che esprimo il mio parere qui su YouTube realizzo video ma sono una come voi voi vi informate sulla gazzetta anche io sentite le notizie da Sky anche io premium o altro cioè siamo praticamente uguali io sono una tifosa voi anche io non mi spacerò mai per una giornalista che non sono voi fatemi sapere quello che pensate se secondo voi è una perdita notevole questa rottura con Sabatini e io vi do appuntamento al prossimo video e io vi do appuntamento al prossimo video e io vi do appuntamento al prossimo video